Una violenta ondata di maltempo ha devastato Piemonte e Valle d'Aosta, causando alluvioni, frane e grandinate che hanno isolato numerosi centri abitati e provocato danni ingenti. I temporali iniziati sabato sera si sono protratti fino a domenica mattina, ingrossando torrenti e fiumi che sono esondati in diversi punti. In Valle d'Aosta la Val Nontei è stata particolarmente colpita con l'isolamento di Cogne. In Piemonte le vallate alpine del Torinese hanno subito gravi danni. Numerose persone sono state evacuate in entrambe le regioni con decine di interventi dei vigili del fuoco durante la notte. Diverse strade sono state chiuse per frane e rischio di esondazioni. In Valle d'Aosta Cogne è rimasta isolata a causa dell'esondazione del torrente Val Nontei e di alcune frane. L'elisoccorso ha salvato una famiglia con una bambina piccola e altre tre persone nel vallone dell'Urtier. La strada cantonale di Val Nontei è stata gravemente danneggiata con la rete elettrica e l'acquedotto fuori uso. La strada Cogne-Aosta è parzialmente crollata. A Monti Ovette e Isogni due famiglie sono state evacuate e gli abitanti fatti salire i piani superiori. A Cervini è l'esondazione del torrente, marmore, allagato negozi e causato danni significativi. In Piemonte le province di Torino e Verbagna, Cusio e Ossola hanno subito forti piogge con 80 interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco. A Montanaro una famiglia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata dall'innalzamento del torrente Orco. Decine di persone sono state evacuate nelle valli del Torinese. A Locana 37 persone sono state trasferite da un ristorante isolato dopo una frana, mentre a Noasca la cascata ha danneggiato il ponte d'ingresso al paese, costringendo alla chiusura temporanea della strada provinciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.